Ciao a tutti amici! Quest'oggi vi voglio parlare dell'accoglienza del cucciolo a casa. Suomi, saluta! Innanzitutto vi voglio dire che prima di accogliere un cucciolo nella vostra famiglia, tutti i componenti della famiglia devono essere tutti, dico tutti, consapevoli. I canili sono già pieni di cani in attesa di una famiglia, non ne vogliamo altri. Soprattutto se voi pensate di fare come regalo un cucciolo, state bene attenti. Questo potrebbe essere un regalo non gradito alla persona che lo sta per ricevere. Pertanto tutti i componenti, anche chi eventualmente dovrebbe ricevere questo come regalo, in realtà il regalo se lo dovrà andare a prendere per conto suo se è un cuore che batte. Siete d'accordo con me, vero? Come dicevo, quest'oggi affronteremo l'argomento dell'accoglienza del cucciolo a casa. Prima di tutto bisognerà togliere tutti i pericoli che avrete intorno a casa vostra, dentro casa vostra, tutti i fili scoperti eventualmente che pendolano dalle vostre prese piuttosto che degli oggetti pericolosi o degli oggetti tossici. Tutto questo va assolutamente tolto dalla portata di mano dei vostri cuccioli. Come per esempio, io vi consiglio anche di acquistare un bello scappale dove posare le vostre scarpe e le vostre ciabatte. Piatto molto prelibato per i nostri cuccioli, assicurato. Quindi mi raccomando, sempre tutto che non sia all'altezza del vostro figliolo peloso. E certamente se nell'eventualità voi non vogliate che vada in una stanza piuttosto che in un'altra, cercate di confinare il vostro ambiente. Cercate di far andare il vostro cucciolo a seconda di dove lo decidete voi. Cioè, innanzitutto vi consiglio, dal momento in cui porterete il vostro cucciolo a casa, fatelo esplorare. Fateli vedere quello che è la sua casa. Fateli immagazzinare tutti gli odori che per lui saranno nuovi, compresi i vostri, perché non vi conosce, non vi conosce, non vi avrà visto forse una volta, due al massimo, quando vi siete recati in allevamento per scegliere il vostro cucciolo. Magari vi siete recati un'altra volta in allevamento per andarlo a trovare, per vedere quanto è bello, quanto è cresciuto. Però, ecco, non è abbastanza per un cucciolo per far sì che vi conosca. E certamente è uno stress per il cucciolo cambiare ambiente, cambiare famiglia. Pertanto, io vi consiglio di non recintarlo. Non subito almeno, no? Ecco, quindi, ritornando a quello che dicevo prima, fateli esplorare tutta la casa, in modo che così conosca tutti gli ambienti, e poi, dal momento in cui avrà compiuto questo gesto, allora poi, se poi, per esempio, non volete che vada nella stanza da letto dei vostri figli, piuttosto che nella vostra, allora vorrà dire che confinerete magari quello spazio. Mi raccomando le scale, perché anche queste possono essere molto pericolose per il cucciolo. Innanzitutto per una questione di salute, sia per il golden retriever che per il bassotto. Il golden retriever per quanto riguarda la displasia, perché purché geneticamente i cuccioli siano sani, ecco, però i fattori ambientali e me possono portare comunque il problema. Ricordatevi che anche per il bassotto ci sono dei problemi articolari, pertanto, anche per lui, ci sono sicuramente degli accorgimenti, anche per quanto riguarda la schiena. Quindi il cifoticismo nel bassotto è molto diffuso e sicuramente il fattore ambientale, quindi facendo impare anche le scale, sicuramente può dare modo di insorgere questo problema. Quindi evitiamo, evitiamo veramente di fare del male ai nostri amici, ma sono sicura che nessuno di voi vorrà il male al vostro cucciolo, sono certa, altrimenti non avrete fatto una scelta così consapevole. I consigli per gli acquisti sono vari, ricordatevi che il cucciolo rimane cucciolo per poco tempo, quindi non spendete una fortuna come primo corredo per il vostro cucciolo, per il vostro figliolo peloso. Prendete quello che è, in quel momento, lo stretto necessario, perché poi, insomma, la vita di un cane, insomma, di media è 15 anni. Pertanto la cosa più giusta è sicuramente un investimento che non sia assolutamente esagerato all'inizio, tranne su questi aspetti che sono, per esempio, la cuccia. Ecco, questo per esempio è un aspetto che valuterei come acquisto, un acquisto già a lungo termine. Certo, non durerà 15 anni, sappiate che questi sono investimenti che avranno una vita, diciamo, a tempo determinato, diciamo così. Però, la cuccia si può già pensare di acquistarla a misura del cucciolo di quando sarà adulto. Ecco, quindi, non vi consiglio di prendere una cuccia troppo piccola quando poi il Golden Retriever arriva invece nell'arco di 3-4 mesi ad essere già grande. Quindi, 60 giorni, voi avrete sia un cucciolo che pesa 6,5-7, alto circa 40 centimetri in piedi, non algarrese, per quel canzertanto vi sconsiglio di acquistare proprio cose troppo costose per questo periodo. Ecco, un altro consiglio quindi riguardo a questo aspetto della cuccia è il BetBed. Cos'è il BetBed? Il BetBed è un bel tappeto che se casomai avete anche spazio e sufficienza in casa è anche molto comodo in quanto di semplice pulizia e facile da lavare anche in lavatrice. È un tappeto morbido sopra e antiscivolo sotto. Regola la temperatura quindi caldo in inverno e fresco in estate. Questo è un tappeto molto soffice in modo che così il vostro cane non rimarrà cucciato sul pavimento che è anche un po' alto della verità e quindi questo dà un senso assolutamente di sofficità al vostro al vostro cucciolo al vostro cane durante i suoi momenti di nana. Se non questo perché magari non avete tantissimo spazio anche se devo dire la verità ce ne sono di tutte le misure partono da un metro e mezzo fino ai due metri e mezzo devo dirvi la verità però ecco questi due metri e mezzo magari li troviamo solo noi in allevamento però chissà che magari oggi come oggi in commercio si riescono a trovare anche anche per i privati. Quindi altro articolo interessante che vi voglio proporre è un bel cuscino un bel cuscinone bello alto bello soffice giusto suami beh a te piace il divano di la verità comunque anche quello può andar bene per chi è d'accordo eh non dico di no però intanto è consigliabile un bel cuscinone bello alto come dicevo bello soffice consigliato consigliato in water proof in water proof cioè non trattiene l'acqua quindi eventualmente mettiamo caso che voi siete usciti fuori con il vostro cane a fare la passeggiata fuori piove il cane è tutto bagnato sì è vero una bella asciugata con una bella asciugamana una bella strofinata però purtroppo non è completamente non rimane completamente asciutto un po' bagnato rimane a meno che insomma non lo asciugiate col fono e allora va bene però se così non fosse questo tipo di tessuto non trattiene l'acqua è fatto apposta quindi anche per quanto riguarda lo sporco se casomai il vostro cane il vostro cucciolo avesse trattenuto del fango il giorno dopo ve lo ritroverete secco sul cuscino quindi è tutto di facile manutenzione altro aspetto molto interessante è sicuramente la passeggiata che adesso di questo argomento vi parlerò con molto piacere ecco la passeggiata deve essere un momento molto piacevole sia per il cane che per la famiglia ricordatevi che non è il cane che deve portare voi io ho visto delle scene molto molto divertenti nella mia vita tipo Calesse il cane davanti che portava a modi di cocchiere il conduttore dietro in realtà non deve essere così deve essere un momento come dicevo molto piacevole però ecco per quanto riguarda questo tipo di educazione rispetto alla passeggiata magari ne parleremo in un altro appuntamento per oggi come dicevamo stiamo affrontando l'argomento di ciò che serve per l'accoglienza del vostro cucciolo io per quanto riguarda il collare io consiglio sempre la fettorina ecco la fettorina ad acca non è detta solo svedese ma è anche detta alla romana adesso vi farò vedere quale come dicevo prima è composta da due circonferenze di stoppa che cingono il cane una all'altezza del collo gusto e l'altra all'altezza del trompo l'aggancio avviene sul lato inferiore all'altezza del tronco previo inserimento dall'altra parte cioè di decollare l'attacco col guinzaglio avviene di solito sulla parte inferiore la forza viene pertanto scaricata in diversi punti del tronco lasciando scapole e gomiti liberi nei movimenti con questo tipo di pettorina anche se il cane tira come un forsennato come se non ci fosse un domani difficilmente subirà danni aggiunture e articolazioni c'è un valore aggiunto rispetto a questa tipologia di pettorine che la posizione del nostro amico peloso tenderà a rimanere naturale e corretta zampe e spalle non saranno portate mai verso all'infuori suggerendo posture quindi sbagliate ecco l'aggancio ottimale con il guinzaglio deve essere posizionato esattamente al centro del tronco del nostro amico peloso ecco io in giro ho visto molti modelli con un attacco frontale in petto e sono assolutamente da evitare ecco ci sono tantissime teorie rispetto al giusto sbagliato dei collari però ecco io mastico comunque questo questo mondo con loro i nostri golden i nostri bastotti ogni giorno e quindi anche al lato pratico riesco a verificare proprio personalmente anche i benefici piuttosto che il contrario rispetto a quello che può portare ai cuccioli piuttosto che agli adulti e via dicendo quindi credetemi seguite questi consigli che assolutamente male male al vostro cane non fanno ecco la pettolina d'acca è anche un modello molto comodo per il cane perché non si sente affatto costretto e questo aiuta anche a far star tranquillo il nostro cane e a migliorare la nostra comunicazione con lui durante la passeggiata che come dicevo prima non deve essere un momento come dire di ansia né per il padrone né per il padrone o la mamma o il papà come volete chiamarvi voi io di solito chiamo mamma e papà ecco e neanche per il cane deve essere un momento davvero piacevole come appunto dicevo dicevo prima ecco come appunto vi dicevo il modello ad h quindi detto alla svedese o romana è questo quindi esattamente come potete vedere forma proprio una h ok questo è piccolino perché per i bassotti ovviamente ecco diciamo che ovviamente per il gold retriever una volta che andrete a prendere il vostro gold retriever ci vorrà una taglia S-M perché il cucciolo gold retriever quando ha compiuto i 60 giorni pesa intorno ai 6,5-7 nell'arco di due settimane ve lo troverete già a bordo letto quindi per farvi capire la grandezza del gold retriever quanto cresce velocemente quindi per il primo corredo in questo senso non spendete una fortuna per esempio ci sono delle bellissime pettorine non per fare pubblicità però per esempio ci sono quelle pettorine a fascia tipo Julius che sono splendide ecco sono anche molto comode e anche esse hanno dei benefici però quando il cucciolo è ancora troppo piccolo insomma se ne cambiano almeno un paio quindi io vi sconsiglio di affrontare una spesa così importante così presto ma di aspettare quando perlomeno ha raggiunto un'età dove poi possa mantenere la stessa pettorina questo ve lo consiglio proprio per non buttare via del denaro che secondo me è davvero inutile ecco quindi come potete vedere questa è una pettorina ad H come appunto dicevo prima la cosa importante è che l'aggancio sia proprio dalla parte centrale del collo quindi su dietro ecco è molto importante come dicevo prima questo aspetto ecco quindi anche per quanto riguarda il collare abbiamo detto tutto invece per quanto riguarda il guinzaglio io vi consiglio una bella lunghina perché la lunghina sicuramente è un elemento che viene utilizzato molto in addestramento ma utilizzato anche durante la passeggiata può rendere il cane anche un po' più libero rispetto a quello che potrebbe essere con un guinzaglio classico quindi corto 100 cm 105 quelli classici sostanzialmente invece le lunghine arrivano anche a una lunghezza di 2,10 m 2,20 m con più anelli i quali servono appunto per agganciare il moschettone a un secondo della lunghezza per la quale vogliamo tenere il nostro cucciolo quindi nel momento in cui per esempio passeggiamo in città allora a quel punto terremo il guinzaglio un po' più corto quindi agganceremo il moschettone all'anello più in basso così che il guinzaglio rimanga corto se invece andremo a passeggiare per esempio non so in mezzo ai campi nel bosco o comunque in un parco dove eventualmente non dia fastidio anche magari ad altre persone il vostro cane e quindi avremo la possibilità di poterlo diciamo così sguinzagliare senza effettivamente sguinzagliarlo quindi lasciando il guinzaglio un po' più lungo ecco anche il vostro cane si sentirà quindi libero e voi sicuri comunque di avere il cane ancora nelle vostre mani ok? questo intanto è per quanto riguarda la passeggiata il momento della pipì questo è un passaggio molto importante per quando voi porterete il vostro cucciolo a casa ecco per quanto ci riguarda noi li abituiamo fin da qui a fare i loro bisogni fin da piccolissimi sapete come voi avete sempre visto nel nostro allevamento i nostri cuccioli vivono in casa con noi e se non imparassero a fare i loro bisogni fuori certamente noi saremmo davvero riempiti di quello che si chiama cacca quindi noi non vogliamo assolutamente mancare di igiene sia per noi che per loro per questo motivo gli insegnamenti partono fin da subito in modo che voi a casa abbiate un sostegno già che è partito da qui e come proseguire questo sostegno è semplice come un neonato quando è piccolissimo chiede di mangiare il suo latte ogni due ore due ore mezzo se tira di più lo stesso anche i nostri cuccioli hanno bisogno di fare i loro bisogni più o meno ogni questo tempo quindi voi state ben attenti dopo che avrà mangiato il suo pasto spesso e volentieri dovrà fare subito il suo bisogno dipende anche dal cucciolo in realtà ci sono cuccioli che subito dopo il pasto hanno subito bisogno di fare i propri bisogni un po' come un conduttore diretto consumando e producendo in realtà quindi non produttore consumatore ma consumatore produttore no dai non voglio sembrare banale però ci sono invece altri cuccioli che piuttosto di essere abituati in questo modo prima fanno la nanna quindi mangiano si diventano capotati K.O. proprio tecnico per la pappa e poi subito come si svegliano hanno subito bisogno di uscire a fare la pipì perciò state ben attenti a questi segnali se dopo aver mangiato il cucciolo comincia ad annusare in giro dappertutto e questo significa che sta cercando dove andare a fare il suo bisognino quindi voi cosa farete? voi con la pettorina che avrete già tenuto addosso il vostro cucciolo perché come andrete a casa io vi consiglio di tenergliela addosso almeno per una settimana e sappiate che si gratterà sempre con questa pettorina addosso non perché gli darà fastidio ma perché ha un senso di stress per lui quindi con questa pettorina che lui avrà già indossato voi lo prenderete e lo porterete subito o in giardino o fuori a farla passeggiata io vi consiglio sempre fuori a farla passeggiata proprio perché sì il giardino è comodo per tanti aspetti però è vero anche che andare a sbagarsi con il proprio cucciolo il proprio figliolo peloso è sempre un aiuto anche per il morale e per il quotidiano dei nostri cucciolotti in modo da fare insomma provare delle esperienze anche diverse farli sentire odori diversi è vero che il giardino magari appena arrivati a casa i suoi odori non li ha e quindi è tutto nuovo però con l'andare del tempo i suoi odori nel giardino ci saranno e quindi insomma facciamogli fare esperienze nuove il parco mi raccomando le aree cani io le sconsiglio vivamente è vero che magari voi che abitate a Milano avete poco spazio verde in città e le aree cani molto probabilmente è proprio l'unica cosa che avete per portare il cane a passeggio però sappiate che è sempre una situazione abbastanza rischiosa in quanto noi non conosciamo l'iterigenico sanitario degli altri cani che visitano l'area cani e pertanto possono anche essere pieni di plecche per esempio o di pulci quindi non essere stati supportati con un antiparassitario e questi parassiti come per esempio possono essere anche dei parassiti intestinali che quindi defecando rilasciano poi le uova anche nel terreno per esempio insomma tutti questi aspetti poi ce li possiamo portare a casa benissimo con il nostro cucciolotto una volta che veniamo via dall'area cani pertanto per questi motivi che sono qui sempre fattori salutari io vi sconsiglio proprio questo questa tipologia di passeggiata piuttosto piuttosto il marciapiede ragazzi piuttosto un bel sacchetto per raccogliere le peci del vostro cane del vostro cucciolotto mi raccomando munitevi sempre di roll sacchettini e via dicendo da tenere in borsa perché l'educazione dei nostri cuccioli dei nostri figlioli pelosi non dipende da loro dipende da noi quindi se loro sono educati è perché lo saremo noi quindi piuttosto il marciapiede e piuttosto la raccolta dopo ma non l'area cani invece un altro articolo che vi servirà questo per tutto l'anno mi raccomando è proprio l'antiparassitario questo per proteggere da pulce zecche plebotomi e mosche cavalline i vostri e anche scusate e anche i pidocchi i vostri piglioli pelosi quindi quali sono gli antiparassitari che coprono tutti questi questi parassiti beh in realtà ve ne sono tanti però a voi la scelta rispetto a questa tipologia di antiparassitario non voglio fare pubblicità casomai di questo ne parleremo quando verrete a trovarmi ecco intanto mi raccomando proteggete sempre il vostro cucciolo fin da cucciolo appunto il vostro cane sempre tutto l'anno perché è pur vero che le zecche durante l'anno ci sono solamente nel periodo più caldo proprio perché le zecche al di sotto dei 10 gradi centigradi non ci sono vi sono però sempre le pulci e tutti gli altri parassiti elencati prima tranne le mosche cavalline ovviamente perché queste sono come appunto le zanzare vi sono solo in estate però certamente tutti gli altri parassiti è meglio cercare per gli altri parassiti è meglio cercare di proteggere il nostro pigliolo peloso ecco la frequenza rispetto a questi antiparassitari ogni mese quindi io vi consiglio ogni 30 giorni segnatevelo da qualche parte oggi come oggi esistono le agende sul cellulare che suonano al momento in cui abbiamo bisogno di ricordarci un particolare appuntamento questo è un appuntamento da doversi ricordare e pur particolare quindi mettiamo una una bel promemoria mensile ogni 30 giorni mi raccomando cadenza 30 giorni perché ogni mese non è sempre di 31 giorni febbraio per esempio no però facciamo una via di mezzo ogni 30 va benissimo anche proprio proprio perché il principio attivo dell'antiparassitario ovviamente perde della sua efficacia più avanti si va e quindi certo è che non bisogna neanche somministrarlo troppo precocemente grazie al fattore che perde la sua efficacia perché a quel punto potrebbe invece dare delle problematiche differenti nel prossimo argomento parleremo invece del bagnetto quanto è frequente fare il bagnetto ai nostri cani cosa si deve usare per fare il bagnetto ai nostri cani quali sono i prodotti migliori e per spazzolarlo cosa possiamo utilizzare ma si spazzola spesso il gold retriever e il passotto adesso vi darò anche presente di questi argomenti io e Sansone vi vogliamo spiegare con quale frequenza si possono lavare i nostri piccoli amici a quattro zampe è vero che il lavaggio è un'attività molto delicata che però con qualche accorgimento può anche essere un momento piacevole sia per i nostri piccoli figlioli pelosi sia per noi quindi ricordiamoci che deve essere sempre un momento di calma sia per i nostri cuccioli che per i nostri cani che per noi intanto la frequenza per cui possiamo lavare i nostri cani beh è una domanda che si pongono tutti fin dal primo momento in cui il cucciolo mette piede o meglio dire zappa nella nostra casa è pur vero che ogni famiglia ha fretta di lavare il proprio cucciolo una volta che arriva a casa un po' come un neonato quando esce dall'ospedale abbiamo fretta di fargli fare tutte le esperienze possibili attenzione su questo vi voglio dare alcune dritte intanto la frequenza va le risposte per la frequenza vanno dalle 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 ipotesi più disparate intanto insomma c'è chi dice mai come ogni giorno come come ogni settimana però ecco come spesso capita la verità in realtà sta nel mezzo oppure forse meglio dire nel buon senso la frequenza dei bagnetti per i nostri piccoli figlioli pelosi dipende almeno da due fattori intanto se il pelo è lungo o corto lo stilo di vita per esempio l'igiene di un cane che vive in casa è più deve essere curato maggiormente pertanto se il cane vive in casa si può dire che generalmente può essere lavato ogni 4-6 settimane e direi che è un buon compromesso quindi la soluzione migliore quindi è quella di valutare di volta in volta il livello di pulizia del proprio figlio peloso che nell'eventualità insomma si usino anche dei prodotti giusti ecco poi vi spiegherò anche quali non sono un problema anche i lavaggi molto frequenti in quanto cute e pelo non si rovinano in realtà ecco intanto io vi consiglio di non lavarlo troppo troppo frequentemente se il cucilo non è eccessivamente sporco potrete utilizzare lo shampoo secco questo può essere utilizzato anche per una pulizia quotidiana del manto e per tenere quindi pulito e igienizzato profumato e lucido il pelo del vostro cucciolo oppure un aceto di mele sia uno che l'altro vanno utilizzati nello stesso modo pertanto utilizzando un panno di daino viene imbevuto quindi il panno con l'aceto di mele e poi viene passato verso il pelo del nostro piccolo amico peloso mai contro pelo sempre verso pelo invece per quanto riguarda lo shampoo secco prima si pulisce con una bella spugna bella come dire un po' imbevuta sempre per esempio come dicevo il panno di daino imbevuto di acqua e si tolgono i primi residui di sporco dopodiché si prende lo shampoo secco lo si distribuisce uniformemente sul corpo del nostro cucciolo del nostro cane dopodiché sempre con lo stesso panno di daino si rieffettua di nuovo il il risciacquo tra virgolette ecco invece con l'aceto di mele tutto tutti questi passaggi non ci sono direttamente con l'aceto di mele imbevuta la spugna quindi il panno di daino si può assolutamente pulire il nostro manto senza doverlo tra virgolette risciacquare mi raccomando evitate il bagno nei giorni immediatamente successivi alle vaccinazioni in quanto ecco potrebbero potrebbero essere depotenziate proprio da un raffreddore oltretutto mi raccomando non fate il bagnetto dopo aver somministrato al vostro cuccio o al vostro cane adulto l'antiparassitario io piuttosto vi consiglio prima di fare un bel bagnetto quindi che sia già ben igienizzato a quel punto e poi somministrare l'antiparassitario in modo che così non scivoli via non perda la sua efficacia è vero che oggi come oggi molti sono gli antiparassitari anzi direi tutti che sono resistenti all'acqua però è pur vero che è sempre meglio non rischiare invece gli sciampi da utilizzare per i nostri cani innanzitutto sono quelli appositi quelli per cani cioè specifici ricordatevi che il pH della pelle umana è di circa 5.5 quindi rispetto alla cute canina si attesta intorno ai 7 quindi è molto più alcalino il nostro rispetto al loro gli sciampi i nostri quindi il tuo sono troppo aggressivi per i nostri cani se utilizzati pertanto l'utilizzo di questi tipo di queste tipologie di sciampi aumenta il rischio di arrossamenti di irritazioni e di dermatiti per cui mi raccomando perché sostanze troppo forti sul lungo periodo contribuiscono ad indebolire lo stato protettivo che la cute canina secerne naturalmente per proteggersi dagli agenti esterni ecco un altro fattore molto importante è come asciugare il nostro cane il nostro cucciolo dopo il bagnetto beh basta un semplice fono ecco mi raccomando magari mettete una potenza a metà in modo che così sia per quanto riguarda anche il calore in quanto potremmo anche rischiare di bruciare la cute del nostro cane nel nostro cucciolo questo quindi potrebbe dare anche fastidio come rumore eventualmente quindi abbassiamo il fono così per dare anche un senso di tranquillità al nostro cucciolo al nostro cane mentre lo stiamo asciugando quindi per il nostro bagnetto utilizziamo questi strumenti che sono una bella spugna per pulire bene il pelo per toglierli tutti i residui di sporco una bella una bella spazzola un cotone idrofilo e un olio minerale ecco l'olio minerale si utilizza anche prima del bagnetto come la spazzola questa proprio per sciogliere tutti i nodi che sono in superficie e sotto nel sottopelo quindi come un balsamo questo aiuta questo olio minerale a sciogliere i propri nodi quindi useremo la spazzola prima del bagnetto e dopo il bagnetto vi do anche questo consiglio rispetto al lavaggio anche delle orecchie io vi consiglio prima di tutto se potete è meglio utilizzare un batuffolo di cotone per proteggere il paniglione auricolare quindi farete in questo modo farete una bella pallina di di cotone la infilerete dentro le orecchie del vostro cane in modo che così l'acqua non penetri all'interno se proprio così non fosse o comunque un po' di acqua magari gli è entrata perché succede ci mancherebbe magari se è spostato il cotone allora prenderete un pezzo di cotone idrofilo lo avvolgerete sul vostro dito indice e pulirete il padiglione auricolare fino non fino in fondo mi raccomando solo l'esterno mi raccomando state bene attenti ecco un'altra cosa molto importante è la temperatura dell'acqua la temperatura dell'acqua deve essere nella stessa temperatura corporea dei nostri cani che è intorno ai 38 gradi e mezzo centigradi mi raccomando non troppo calda e neanche troppo fredda rispetto a queste temperature l'altezza dell'acqua non deve essere neanche troppa va benissimo all'altezza delle delle zampe in sostanza quindi in modo da coprire fino all'inizio del bacino ok quindi sotto la pancia sostanzialmente mi raccomando evitate anche accuratamente anche vi prego di fargli finire il sapone negli occhi quindi cercate di prendere con delicatezza anche il musino quando laverete il vostro cane il vostro cucciolo ecco io un altro un altro suggerimento che vi posso dare è sicuramente la pulizia degli occhi quando si vuole fare una pulizia non dico quotidiana ma quasi quindi quando si vogliono pulire gli occhi del nostro cane del nostro cucciolo si prende sempre un bel cotone idrofilo si fa bollire una bella camomilla proprio come per noi esseri umani e si imbevendo appunto il nostro cotone idrofilo con la camomilla che ovviamente si sarà anche raffreddata intiepidita soprattutto intiepidita più che raffreddata allora a quel punto la passeremo intorno agli occhietti del nostro cagnolino ecco mi raccomando pulite sempre bene l'angolo mediale dell'occhio dove che appunto si formano le secrezioni oculari dove che appunto si seccano queste vengono via molto facilmente un altro accorgimento molto importante mi raccomando non pulite mai all'interno dell'occhio prima di tutto non serve e poi certamente rischiereste solamente di dare fastidio o fare male al vostro piccolo figliolo peloso una domanda che mi viene posta spesso è ma ai nostri cani piace fare il bagnetto? è un momento piacevole per loro o è un momento a cui da fastidio? beh allora la mia risposta è questa di sicuro il primo approccio con il bagnetto è un po' traumatico per un cane è normale però è consigliabile abituarlo fin da piccolo per quanto mi riguarda i nostri golden io vi posso garantire che non hanno nessuna paura dell'acqua in quanto pensate noi li portiamo sempre ai luoghi dove c'è davvero tanta tanta acqua e loro già che la vedono da lontano vorrebbero essere già dentro ci si vorrebbero già tuffare pensate quindi munitevi di sicuro di vaschetta per l'estate di piscina proprio perché anche i nostri cuccioli sono abituati proprio al contatto con l'acqua gli piace davvero tantissimo quindi state tranquilli su questo lato e preparatevi su questo aspetto ecco ovviamente come dicevo è anche però un aiuto quindi il fatto è che noi abituiamo già da qui e quindi è un aiuto perché si dà un input già da piccoli per chi invece ancora non ha fatto questo tipo di operazione mi raccomando potete cominciare già da adesso se eventualmente questa operazione non è stata eseguita nell'allevamento dove avete diciamo preso il vostro cucciolo incominciate a farlo voi ovviamente come dicevo prima deve essere un'operazione che deve essere eseguita tutta con calma concedendogli dei momenti di gioco e magari anche di gratificazione quindi alla fine del lavaggio io vi consiglio di gratificarlo con qualche croccantino con qualche snack ecco il fattore del lavaggio certamente molto dipende anche dal carattere del singolo figliolo peloso quindi c'è chi prende tutto come un gioco anche il bagnetto e chi l'acqua proprio non la sopporta però ecco ripeto tutto dipende anche da quanto si abituano da piccoli e da dove vengono i nostri cuccioli è un fattore molto molto importante la socializzazione ma di questo aspetto ne parleremo in un altro appuntamento invece io e Dalila vi vogliamo parlare di quale ciotole scegliere per i vostri cuccioli e che andranno bene anche per i vostri figli pelosi quando saranno più grandi per cui innanzitutto vi consiglio due ciotole una per il cibo e una per l'acqua naturalmente la grandezza delle ciotole varia a seconda della grandezza quindi la circonferenza delle ciotole varia a seconda della grandezza del vostro cucciolotto e del vostro cane quando sarà adulto per cui io innanzitutto vi consiglio delle ciotole che siano innanzitutto pratiche non molto più che estetiche quindi bandiamo la plastica che comunque sappiamo bene tutti che è pur sempre un materiale chimico e quindi a lungo andare con il deterioramento rilascia anche delle sostanze che possono essere cancerogene per cui utilizziamo piuttosto delle ciotole in acciaio inox di facile pulizia si possono lavare anche lavassoviglie e sono di facile asciugatura non arruginiscono quindi mi raccomando attenzione perché in commercio vi sono anche quelle di alluminio e invece queste arruginiscono io però vi vorrei consigliare un altro un altro articolo che è molto importante secondo me lo utilizziamo anche noi in allevamento con i nostri cuccioli i nostri cani azuti e cioè sarebbe l'alzaciotole cos'è l'alzaciotole? l'alzaciotole è un supporto una base che è sollevata da terra supporta proprio due ciotole sospendendole da terra in modo che il cane sia più sia proprio all'altezza della ciotola rispetto al suo musetto e in questo modo possiamo evitare la torsione dello stomaco per esempio che è una problematica molto diffusa che porta che porta la morte da lì a pochi minuti se non che anche per i cani anziani è una questione che può essere molto comoda quanto per l'artrosi per esempio oppure per i cani anziani oppure per i cani di taglia grande appunto come il Golden Retriever tu no e quindi anche per i cani un po' più vecchietti che magari che magari si dovrebbero chinare fino a terra per mangiare in realtà in questo modo è un sollievo non indifferente ecco la torsione grassica come abbiamo appunto detto in precedenza è un problema molto grave e tra l'altro il cane mangiando troppo velocemente provoca anche flatulenza e aria nello stomaco pertanto anche questo può portare a coliche e spasmi fortunatamente però esiste una soluzione a tutti questi aspetti cioè esiste proprio una particolare ciotola per cani che è la ciotola anti ingozzamento io ve la consiglio anche per i bastotti perché anche loro sono molto molto voraci quindi io per i bastotti vi consiglierei proprio questa ciotola che ha un principio di funzionamento molto semplice cioè la ciotola la forma della ciotola comprende proprio degli ostacoli no quindi impediscono proprio fisicamente al cane di mangiare troppo in fretta dato che per raggiungere il cibo impiegherà un po' più tempo quindi purtroppo non è facile trovarne di materiali che non siano diversi dalla plastica però sappiate che il fattore di non trovare di plastica io la considero una delle priorità ulteriori a questo in modo questo proprio per come vi ho detto prima la plastica è pur sempre un materiale chimico comunque valutate voi noi consigliamo sempre il bene per i nostri cuccioli se invece il tuo bassotto o comunque se il tuo cucciolo non è un cucciolo molto vorace ci sono anche delle ciotole adatte ai cani di razza con le orecchie lunghe quindi ci sono delle ciotole un po' più alte da terra in modo che così non si bagnino per esempio nell'acqua dal momento in cui la ciotola la riempiamo un po' di meno quindi l'acqua per esempio se il cane le orecchie dentro la ciotola non si bagnano completamente magari si bagneranno un pochino però diciamo che è abbastanza sufficiente per poter far sì che il nostro bastottino mangi tranquillamente e beva tranquillamente senza doversi sporcare o bagnare mi raccomando acqua sempre fresca sempre bisogna sempre cambiarla spesso in modo che così non ristagni perché il ristagnamento dell'acqua può comunque portare anche delle parassitose intestinali eventuali e per evitarlo appunto sostituitela spesso durante la giornata sempre acqua fresca durante l'estate quindi sostituitela sempre che non sia gelata nel senso che non abbia insomma non metteteli nel ghiaccio perché ho sentito anche persone che per esempio gli mettono il ghiaccio dentro l'acqua nella ciotola pensando che possa dare beneficio per rinfrescare il nostro cucciolo il nostro il nostro figlio allo peloso in realtà possiamo invece rischiare delle problematiche che siano neanche tanto indifferenti un altro accessorio che potrebbe esservi utile è la ciotola portatile quindi la ciotola da viaggio anche per quando vorrete a prendere i vostri cuccioli qui all'allevamento slavonita mi raccomando munitevi di ciotola da viaggio e anche di borraccia da viaggio per il vostro cucciolo il vostro figlio allo peloso lo utilizzerà anche quando sarà grande quindi esistono delle ciotole pieghevoli si spiegano all'uso quindi poi si ripongono molto facilmente molto semplicemente e anche le borracce sono proprio come delle bottigliette che si riempiono come una normale bottiglietta e si aprono a 90 gradi quindi dal momento in cui l'acqua viene aperta la parte di fondo si riempie di acqua appunto diventando una ciotola un'altra domanda che mi viene posta spesso riguarda proprio l'alimentazione quindi è proprio di questo argomento che vi voglio parlare le domande che mi vengono poste sempre sono queste ma quanto cibo li devo mettere nella ciotola al nostro figlio peloso quante volte al giorno di quale quantità ma se non ha finito il cibo nella ciotola la ciotola gliela devo lasciare a disposizione o la devo togliere ma il cibo di quale marca secco umido o entrambi ecco di tutti questi aspetti vi voglio iniziare a dire che bisogna variare la dieta quindi con la proteina della carne e la proteina del pesce quindi abituate il cane a mangiare queste due tipologie di proteine in quanto lasciare la stessa proteina tutto l'anno non è un bene perché alla prima variazione comunque avrà dei problemi e questo intanto è un primo perché il secondo è questo perché bisogna imparare ad adattare la dieta in base al periodo dell'anno quindi se fa freddo o se fa caldo e a secondo anche dell'attività fisica che fa il cane quindi o in inverno o in periodi di intensa attività vanno bene i cibi molto proteici con il caldo invece per i cani che fanno invece poco movimento o che stanno tutto il giorno sul divano invece è meglio somministrare meno proteine più frutta verdura ed erbe ecco non possiamo pensare sicuramente che fa bisogno di un cane ad agosto sia uguale a quello di gennaio quindi un cane che corre anche per esempio 10 km al giorno non è uguale a quello di un cane che invece passa la maggior parte del suo tempo sul divano ecco mi raccomando badate bene a questi aspetti riguardo alla salute del pelo e per accorgervi che il vostro cucciolo non sia in salute a livello alimentazione per l'alimentazione ecco dobbiamo sempre verificare che abbia un pelo lucido una pelle sana e senza porpora badate bene anche le feci che siano sempre ben compatte poi certo a seconda delle razze bisogna valutare la massa muscolare e la massa grassa questo sì però ecco non abbiate timore a variare le crocchette durante l'anno quindi le crocchette tra l'altro se sono di buona qualità non creano alcun problema però l'aspetto fondamentale è proprio la sostituzione della proteina in estate e in inverno quindi mi raccomando in inverno proteina della carne e in estate la proteina del pesce proprio perché in estate dando poi la proteina della carne il cane già è affaticato dal caldo proponendogli la carne si sentirà più appesantito invece con il pesce rimane più fresco e quindi di più facile digeribilità e di più gradimento la proteina della carne viene proposta in inverno proprio per aiutare il nostro figliolo peloso a ripararsi dal freddo quindi il fattore che richieda più cibo nel periodo invernale è proprio perché il suo organismo richiede maggiore energia per aumentare quello strato adiposo che è sotto cutaneo e la lunghezza del suo pelo sappiate che anche i nostri figlioli pelosi come noi e come altri mammiferi hanno una zona detta di benessere termico per il nostro amico a quattro zappe questa si colloca tra i 15 e i 25 gradi quindi hanno proprio bisogno di rimanere al calduccio per i nostri bastotti di fatti io consiglio per l'inverno oltre al sostegno dell'alimentazione un ulteriore sostegno che è il cappottino oltre a questo aspetto dell'alimentazione vi voglio dire che ci sono tantissime marche molte differenti svariate rispetto ai cibi per i nostri amici pelosi però non tutti sono uguali non fidatevi delle marche non perché secondo voi quella è una marca troppo costosa allora significa che sia la più buona certo neanche quella che è la meno costosa pertanto anche il cibo di basso costo ovviamente evitatelo ci mancherebbe di basso costo non considero proprio che sia di buona qualità come cosa scegliere per i nostri amici pelosi secco o umido allora innanzitutto io consiglio il secco poi vi spiegherò anche altro innanzitutto il cibo umido è come se per esempio tu facessi bollire una una coscia di pollo no per esempio e una volta che l'abbiamo fatta bollire buttiamo via il brodo scartiamo tutto per cui tutto quello che ha rilasciato rispetto anche le sue sostanze nutritive le sue vitamine tutto eccetera e manteniamo la carne la carne cosa facciamo la frulliamo e la somministriamo al nostro figliolo peloso lasciamo perdere poi tutto quello che ne viene inserito dentro quindi verdura condrotina vitamina eccetera eccetera però cosa abbiamo ottenuto che abbiamo lasciato abbiamo buttato via comunque la parte più buona per il nostro cucciolo per il nostro figliolo peloso quindi umido no assolutamente no non vi sono tutte le sostanze nutritive necessarie per l'accrescimento ponderale del nostro figliolo peloso quindi scegliamo i croccantini che invece sono un alimento assolutamente completo non gli manca assolutamente nulla il procedimento di lavorazione è differente in quanto la carne all'origine viene disidratata quindi essiccata quindi è carne pur sempre fresca ma la lavorazione è differente quindi mantieni tutte le sue sostanze nutritive all'interno e vi sono quindi tutte le vitamine necessarie per un apporto vitaminico necessario per un crescimento ponderale adeguato mi raccomando come dicevo prima non badate alle marche bensì guardate sempre la composizione analitica sul retro del sacco e gli ingredienti in questi vi deve essere sempre scritta la carne la proteina della carne o la proteina del pesce a secondo del tipo di proteina che avete scelto in quel momento per il vostro figliolo peloso in prima voce cioè se leggerete per esempio agnello 30% per prima cosa significa che questa crocchetta è stata utilizzata in principal modo la proteina della carne attenzione se al posto di questo ingrediente leggerete mais e la percentuale come appunto l'avete letta per la carne attenzione questo deve essere un campanello d'allarme l'ingrediente principale per creare questa crocchetta è stato il mais non stiamo dando da mangiare a delle galline stiamo dando da mangiare ai nostri figlioli pelosi che sono carvoli quindi necessitano di carne il mais aiuta a gonfiare a far sì che ingrassino e fa parte degli zuccheri complessi per cui è di facile digeribilità e quindi anche questo senso come noi esseri umani avrebbe sempre fame e quindi avendo sempre più fame aiuta quindi ad ingrassare sempre di più e più facilmente quindi ci troveremmo un figliolo peloso grasso ma non nutrito adeguatamente oltre a questo fattore pertanto del mais il mais ricordatevi che dobbiamo quindi leggerlo nella composizione analitica verso la terza o quarta voce così come glutine di mais questi due ingredienti sono molto importanti che è molto importante che siano letti sempre più in là rispetto a quello che leggiamo per prima cosa l'apporto vitaminico che dobbiamo considerare è sempre sia per i cuccioli sia per il nostro figliolo peloso adulto badate bene che sia sempre intorno tra il 25 e il 30% questa è la percentuale adeguata della proteina contenuta all'interno del nostro croccantino e un altro aspetto molto importante da non sottovalutare quando si legge la composizione analitica dei nostri sacchi dei nostri croccantini sarebbero le ceneri greggie che cosa sono ecco praticamente sono gli scarti che sono stati utilizzati quando c'è stata la macerazione della carcassa del povero animaletto questo ecco questi solitamente dovrebbero essere privati di quelli che sono le piume i becchi le unghie tutti i denti le ossa purtroppo non spesso e volentieri capita che tutti questi scarti nel procedimento vengano appunto scartati ahimè spesso e volentieri nel procedimento di lavorazione questi rimangono pertanto io vi consiglio che la percentuale adeguata che debba essere indicata sul sacco delle vostre crocchette sia sempre intorno al 7% non di più perché a quel punto gli scarti che sono stati utilizzati per creare quella crocchetta vuol dire che sono veramente veramente tanti e quindi a quel punto non è un cibo di buona qualità per quanto riguarda la quantità giornaliera da versare nella ciotola dei nostri figlioli pelosi per i cuccioli è 360 grammi diviso tre pasti giornalieri giornalieri quindi diviso tre non 360 per tre diviso tre perché è fondamentale dividere il pasto in tre perché il cucciolo richiede un po' bisogno giornaliero comunque maggiore deve crescere e non può assolutamente attendere troppo tempo tra un passo e l'altro esattamente come un cane adulto però state ben attenti proprio perché il fattore della torsione dello stomaco il fattore di cui parlavamo prima è sempre un problema sempre pericoloso ed è anche legato alla lunga attesa che avviene tra un pasto e l'altro per il fatto che un cucciolo o comunque un figliolo peloso adulto possa mangiare troppo di fuga appunto per la tanta fame che ha in quel momento visto che l'ha tanto che attendeva il suo cibo poverino e quindi a quel punto può avvenire quel problema che come dicevamo prima è mortale mi raccomando questo aspetto è molto importante non fate attendere più di 6 8 ore il vostro cucciolo peloso o il vostro figliolo adulto per mangiare è molto pericoloso ricordatevi che per quando sarà adulto vi vorrà ci vorranno due pasti giornalieri quindi il cucciolo fino all'anno di età mangerà per tre volte quando passerà l'anno allora ridurrete a due ma mai a una per nessun motivo né per il cucciolo né per il cane adulto mi raccomando neanche per vostra comodità soprattutto e neanche perché per esempio avete pensato che il vostro cucciolotto che avevate in precedenza ha sempre mangiato così beh era sbagliato per cui ricapitolando sì agli ossi tanti ossi no ai spuntini fuori pasto non vanno bene anche perché abituare il cucciolo a spuntini fuori pasto vuol dire come un bambino non puoi farlo non poterlo far mangiare quando deve mangiare invece mi raccomando gli orari sono fondamentali il cane è un quadrupede molto abitudinario quindi diamo delle regole che sono sempre utili e fondamentali per la vita quotidiana per tutti noi sia per i nostri figlioli pelosi che per noi un altro aspetto è assolutamente un no ai dolci quindi anche i cani è vero che sono golosi però dandogli caramelle dolci o gelati assolutamente non va bene no al miele no al cioccolato ebbene non ci crederete perché è vero che sono delle grandissime golosità per noi umani ma sono del veleno invece per loro quindi mai somministrare questi due questi due alimenti ai nostri amici pelosi perché appunto sono sono davvero molto pericolosi anche non continuare a vaccinare il proprio cucciolo potrebbe essere un fattore pericoloso pertanto la continuazione della profilassi che è stata iniziata in allevamento bisogna continuare a seguirla anche a casa quindi richiamando la vaccinazione che noi abbiamo eseguita in allevamento all'età di circa 55 giorni con una variabilità di circa 5 giorni proprio perché questa è l'età giusta per fare la prima vaccinazione quindi non pensate che il vostro allevatore dove vi siete rivolti o se casomai vi volete rivolgere al nostro allevamento e con molto piacere vi potremo aiutare assolutamente non sarà stato assolutamente tirchio in questo senso bensì ha fatto del bene al vostro cucciolo perché in questo modo ha preferito portare avanti le difese immunitarie che ha dato la mamma al cucciolo con il primo latte anche io sono molto d'accordo rispetto a questo senso oltre ai protocolli che appunto vi sono in medicina per questo aspetto proprio perché portando avanti il più possibile gli anticorpi naturali io lo considero assolutamente un aspetto molto favorevole un altro aspetto che è altrettanto interessante è la vaccinazione contro la rabbia attenzione che il cucciolo non può essere vaccinato contro la rabbia prima dei tre mesi nell'eventualità voi abitiate fuori dall'Italia e avrete la necessità di portare a casa il vostro cucciolo sappiate che prima di portarlo a casa necessiterete di effettuare il vaccino contro la rabbia pertanto dovrete aspettare il novantesimo giorno a compiutere il cucciolo per poter far sì che lo potrete portare a casa vostra con voi un altro aspetto che è bensì importante nella vaccinazione è la leptospirosi canine questa tipologia di componente appunto all'interno del vaccino che compone i tre vaccini quindi per il cimurro per la denovirosi e per la parbovirosi vi sono quindi anche vaccini che compongono nell'insieme anche la leptospirosi se eventualmente così non fosse perché il vostro veterinario curante o il vostro allevamento ha deciso per un altro tipo di protocollo a quel punto dopo trascorsi pertanto i 21 giorni di cui parlavamo prima per il richiamo della trivalente si richiamerà un ulteriore vaccino solo ed esclusivamente per la leptospirosi la leptospirosi si contrae con il morso di un topo o il cane o il cucciolo mangiando per esempio le feci di un topo il topo porta quindi la leptospirosi io la consiglio vivamente specialmente per chi abita magari in campagna o in città dove che vi sono magari presenti questo tipo di animaletti per esempio chi abita a Milano io ho sentito che vicino all'ambro purtroppo vi sono i topi e magari portando il cane al parco è meglio in quel caso allora vaccinarlo anche per questo motivo io francamente li vaccino sempre anche per questo aspetto per cui ricordatevi che vi do appunto un mio consiglio personale spassionato in qualsiasi caso teneteli vaccinati anche per questo punto di vista parlandovi di un altro aspetto igienico sanitario è proprio la lesmagnosi la lesmagnosi è causata da un parastita che è la lesmagna infantum che è trasmessa dalla puntura degli insetti come plebotomi detti anche pappatacci che in italia appunto vi sono generalmente tra maggio e ottobre però è pur vero che oramai l'estate è diventata un po' ballerina il caldo non si sa fino a quanto dura e da quando inizia pertanto spesso ci ritroviamo ad avere anche le zanzare anche un po' prima di maggio magari anche già a marzo troviamo qualche zanzara per cui io consiglio di utilizzare dei prodotti specifici nell'antiparassitario per esempio vi sono anche come dicevamo prima delle sostanze che appositamente coprono anche questo problema oltre alla lesmagnosi c'è un'altra problematica molto importante che è appunto la filaria la filaria per la filaria esistono i vaccini che appunto coprono questo tipo di problema portato sempre dalle zanzare quindi dalla puntura degli insetti come pappatace e flebotomi io vi consiglio di utilizzare sì eventualmente il vaccino che però che è detto vaccino ma tra virgolette perché non è un vaccino ma è un'iniezione contenente una molecola che viene rilasciata ogni 30 giorni per 6 mesi in realtà altri preferiscono delle compresse delle tavolette che vengono somministrate mensilmente attenzione però considerate che non bisogna basarsi sulla data del mese bensì bisogna calcolare come allo stesso modo degli antiparassitari bisogna calcolare i 30 giorni di volta in volta per cui nel vostro telefono come vi dicevo prima inseritevi anche questo promemoria insieme all'antiparassitario ogni 30 giorni l'uno e l'altro vedrete che così sarete sempre puntuali nella protezione del vostro filiolo peloso farmaci specifici in commercio ce ne sono di diversi hanno diversi tipi di principi attivi tra cui qualcuno nello specifico è attivo proprio nei vermi che si creano nell'intestino dei nostri amici pelosi e io vi dico la verità tra i tanti io preferisco sempre consigliare questo proprio perché oltre alla prevenzione della filarosi cardiopolmonale del nostro filiolo peloso elimina anche le forme larvali della dirofilia imitis appunto nome reale della filarosi cardiopolmonale quindi mi raccomando somministratelo sempre 30 giorni ricordatevi perché è un aspetto molto importante appunto come dicevamo prima per l'antiparassitario i mesi non cadono tutti di 30 giorni per cui questo è un aspetto molto importante da ricordare e mettervi sul vostro telefono insieme al promemoria dell'antiparassitario vedrete che in questo modo avrete un cucciolo e un figliolo un figliolo peloso sempre protetto in ogni momento dell'anno sempre senza dimenticarvi benissimo adesso siete pronti ad accogliere al meglio il vostro figliolo peloso date i consigli date insieme a Dalila Sansone e Suomi innanzitutto vi voglio dare un suggerimento per quando poi porterete fisicamente il vostro cucciolo a casa mi raccomando allo stress non lo so che non è facile perché voi non vedete l'ora di portare a casa il vostro cucciolo di farlo conoscere a tutte le persone che vi circondano amici parenti vicini di casa no aspettate perché questo vuol dire stressare il vostro cucciolo fate così una volta che arriverete a casa lasciatelo tranquillo come appunto dicevamo all'inizio fate l'esplorare ma solo con la sua famiglia agenti esterni no aspettiamo un paio di settimane almeno per fargli conoscere altre persone proprio perché questi sono aspetti che possono dare come dicevamo dello stress al vostro cucciolo proprio perché ha cambiato famiglia come dicevamo all'inizio e ha cambiato ambiente non vi conosce quindi aspettate che prima conosca voi una volta che ha conosciuto voi allora cominceremo a fargli conoscere anche altre persone non possiamo mettere un cucciolo in mezzo alla folla senza che sa ancora qual è la sua mamma e il suo papà per lui in quel momento sono tutti uguali siete d'accordo con me perfetto anche perché lo stress può incorrere a delle problematiche intestinali quindi diarroiche evitiamo di dare questo stress inutile solo per un nostro crucio di farlo conoscere il più in fretta che vogliate possiamo ai nostri amici gli amici possono aspettare adesso che oggi come oggi esistono tante tecnologie dove vi si può mandare fotografie bene accontentiamoli solo con le fotografie per il momento per un paio di settimane almeno mi raccomando intanto per questo appuntamento è tutto io vi ringrazio per aver seguito i nostri consigli spero mi auguro che vi possano essere utili per la prima accoglienza del vostro cucciolo e se vi fossero delle domande eventuali potete farmele qua sotto intanto vi do un grosso abbraccione a tutti voi vi ringrazio per seguirci sempre e così tanto ciao a tutti alla prossima